Ciao a tutti Perciò andiamo a cercare un giocatore per noi Continuiamo la nostra ricerca perché ovviamente su FIFA non si trovano giocatori Aspettiamo qualche secondo Se vedete quell'argentone lì in centrocampo è buggatissimo, ve lo assicuro Abbiamo trovato questo SSCB Mettiamo la maglia del Real Madrid, classica ovviamente Perché normale sarebbe un casino Guardiamogli la squadra, un'italiana anche questa, un Quagliarella, Aleon Blascikowski con dubbià Poi tutti gli altri italiani Perciò come squadra ci sa quasi la stessa Tranne alcuni giocatori 79-100 di inteso Iniziamo la partita Rimuovi, si muovi veloce veloce E partiamo subito Ci si farà un gol subito ora Mi pare strano perché di solito su FIFA 16 è impossibile fare gol Attenzione Oh, maia, grandissimo Che fenomeno Cazzo Eccolo Il baggato argentone, maia, peggio forte lui Guarda lì Guarda i gabbiatini, si Buona Un po' più veloce No, eh, gabbia Dai Gabbè 90 di velocità Grossa Che cazzo di rossa era? Cioè, era un tiro Maia, l'antosomungos Lo spastici sono in questo gioco Fermatelo Fermatevi la scicola No, chi è Gunza? No, che cazzo era? Non c'ho fatto altro Vediamo Questo è buono Fanculo Oh, ce la farò Cioè, è impossibile fare gol Abate, mio Dio Abate, maia Maia, la ha il gol Che è good Don't stop, maia E' l'argentone, bad guys Con le situazioni nuove di FIFA 16, cazzo Maia, guarda lì Abate Cioè, ha fatto un dribbling, maia Mi ha fatto anche un bel tiro Però, non sai La insacca dentro la porta Che fenomeno di argentone Grandissimo Corri Cerviglio Dai Rossi Schilla Maia, che cazzo fai? Fallo, meno male Maia, non stanno schilla In questo gioco La gente Maia, per fare una skill Ci vuole 30 anni Io Non c'ho parole Comprate per forza Che tiro di merda Andiamo Vabbè, finisce il primo tempo Partiamo con il secondo tempo Della nostra bellissima partita Vi stavo dicendo Comprate per forza l'argentonello lì Con Don't stop Oddio, Marchetti Meno male, guarda A volte Marchetti fa certe parate della madonna A volte Fa certe bischerate Io non c'ho parole Grandissime Come ora ha salvato due Due tiri Che era un gol sicuro Minchie Dai Rossi Tutto da solo Maia, corri Maia 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 Fermate a Leon Bravissimo Bravo Giuseppe Rossi Andiamo Rossi Tira Ma vabbè Andiamo Sempre traversi in questo gioco Cioè 56 Tutte traversi Fermate Oh Maia Oddio Meno male Non sa tirare a questo qui Ah no L'ho toccato a un difensore Se no era colpo e forza E lo li Stiamo attenti Spazza via Oddio Maia Questo hit tira Da tutto fuori Ciappa la tira Prima avevo fatto una partita Poi volevo registrare quella Poi non l'ho registrata Praticamente era Un lag pazzesco Non ve lo immaginate neanche Cioè io Mai visto una partita Buggata Ma è quella che ho fatto prima Praticamente andava a scatti E questo io mi ha fatto 3 a 0 Proprio Senza senso Poi ovviamente ora Quando riesco a vendere qualche giatore Sto vendendo Mi faccio Perfezionare un pochino meglio la squadra Però penso che anche così sia Bella fortina Di già 3 minuti Manca I novantesimi Cioè Minuti di Reupera No che manca Fermalo Spazza via Vai Non c'è nessuno a rompe coglioni Come perdere tempo Su FIFA 16 E quel modo Lanciare la palla a caso E questo Questo non corre Vabbè Fischia albero Andiamo Oh bravissimo Spazza via Maiala Il bucio di Ubra Oh E finisce qua ragazzi Sull'1 a 0 Con il gol di testa Di Don Saban Un fenomeno Che è una bestia Un pratero Subito 900 rins Allora Per questo episodio Può finire qua Perciò la prossima settimana Ovviamente Il partito di FIFA 16 Un'altra Nella divisione Perciò Al prossimo video Ciao ciao Bella gente Buona Buona Buona